Amén. Accomodatevi pure. Gloria a Dio. E accostiamoci dunque con santa riverenza alla parola del Signore. Leggerò nel libro del profeta Isaia al capitolo 26 dal verso 11 nella versione nuova riveduta. La mano dell'Eterno è alzata, è levata. Così leggiamo Isaia capitolo 26 dal versetto 11. O Eterno, Dio nostro, altri signori fuori di te hanno dominato su di noi. Ma grazie a te solo noi possiamo celebrare il tuo nome. Quelli sono morti e non rivivranno più. Sono ombre e non risorgeranno più. Tu li hai così puniti, li hai distrutti, ne hai fatto operire ogni ricordo. Tu hai aumentata la nazione, o Eterno, hai aumentata la nazione, ti sei glorificato, hai allargato tutti i confini del paese, o Eterno. Essi nella distretta ti hanno cercato, si sono effusi in umile preghiera quando il tuo castigo li colpiva. Come una donna incinta che sta per partorire e si contorce e grida in mezzo alle sue doglie, così siamo stati noi dinanzi a te, O Eterno. Abbiamo concepito, siamo stati in doglie e quando abbiamo partorito era vento. Non abbiamo recato alcuna salvezza al paese e non sono nati degli abitanti del mondo. Rivivano i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri, svegliatevi e giubilate voi che abitate nella polvere, poiché la tua ruggiada è come la ruggiada dell'aurora e la terra ridarà alla vita le ombre. Gloria al nome del Signore. Le parole che abbiamo letto in questo meraviglioso brano fanno parte del cantico dei Redenti. Sono espressioni di vittoria e di anticipazione della manifestazione della potenza di Dio a favore del suo popolo. Quelli che non scorgono, che non vedono la mano del Signore che è elevata, che è alzata, sono coloro i cui occhi sono accecati, che non possono vedere la mano del Signore. quella mano che è come era una volta, la mano del Re, la mano dell'Imperatore, dalla quale tutti si aspettavano un respons. Noi siamo e vogliamo essere di quelli che vedono la mano del Signore alzata. Amen? Domandiamoci se lo sono. Il Salmo 118 al verso 16 dice E nel Salmo 123, versetto 2, è scritto Ecco, come gli occhi dei servi guardano la mano del loro padrone, come gli occhi della serva guardano la mano della sua padrona, così gli occhi nostri sono rivolti al Signore, al nostro Dio, finché egli abbia pietà di noi. Vogliamo chiedere al Signore che in questo nuovo anno, in questo periodo, oggi, ci conceda di vedere chiaramente che la sua mano è alzata. Cioè che il nostro Signore, il Dio al quale noi ci rivolgiamo, che noi preghiamo, che siamo venuti a lodare, ad adorare stasera in questo luogo di preghiera, è attivo, è attento, è operante, non ha abdicato, è sul suo trono con tutta la potenza di cui noi abbiamo bisogno, con tutta la potenza di cui questo mondo ha bisogno. La mano del Signore dell'Eterno è alzata per liberare dalla schiavitù. Abbiamo letto queste meravigliose parole, Signore Dio nostro, altri signori fuori di te hanno dominato su di noi, ma grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome. Quelli sono morti, non riviveranno più, sono ombre, non risorgeranno più. Gesù, gloria a Dio per la liberazione del Signore, amèn. Abbiamo potuto sperimentare la liberazione dalla schiavitù del peccato. Chi commette il peccato Gesù dice è schiavo del peccato. L'abbiamo sperimentata, gloria a Dio. Perché Gesù ha detto che non si possono servire due padroni. e la mano del Signore è alzata ancora per liberare dalla schiavitù. Se c'è qualcuno che è ancora dominato da qualche padrone, che è schiavo, se sei schiavo di qualche dipendenza, di qualcosa che sta rovinando la tua vita, sappi che stasera la mano del Signore è alzata in tuo favore. Lui sta già operando, credi in Lui, esercita la tua fede con la tua mano, tocca la mano del Signore e tu sperimenterai la liberazione. Noi lo sappiamo, vero? Perché l'abbiamo sperimentato nella nostra vita e non una sola volta. Gloria a Dio. La mano del Signore è alzata, poi, per spingere alla lode. Grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome. Gloria al Signore. Sì, Isaia scriveva, il Signore diceva a mezzo di Isaia la mia mano è davvero troppo corta per liberare oppure non ho la forza di poter salvare. Ma poi, sempre in Isaia leggiamo, ancora nella versione Luzzi, io creo la lode che esce dalle labbra. Pace, pace a colui che è lontano e a colui che è vicino. Dice, l'Eterno, io lo guarirò. E in Ezechiele, capitolo 33, ci sono dei versi molto belli. La sera prima della venuta del fuggiasco la mano del Signore era stata sopra di me ed egli mi aveva aperto la bocca prima che quello venisse da me la mattina. la bocca mi fu aperta e io non fui più muto. Gloria a Dio. La mano del Signore è alzata per spingere alla lode. Grazie a te solo noi possiamo lodare il suo nome. Gesù nel suo ministerio terreno, tra i tanti miracoli che ha fatto, ha fatto parlare i muti, vero? Ha aperto gli occhi dei sordi, gli occhi dei ciechi, gli orecchi dei sordi. Ha compiuto tanti miracoli. Ha fatto parlare. Per la grazia di Dio, per la potenza di Dio, noi possiamo e dobbiamo avere la bocca aperta per lodare il suo nome. E preghiamo che il Signore in questo periodo ci apra la bocca. non per parlare di cose inutili, vane, anzi, la deve essere ben chiusa, ma deve essere aperta per glorificare il nome del Signore, per dare a Lui la lode, per testimoniare della grazia di Dio e soltanto grazie a Lui noi possiamo lodare il suo nome. Sì, abbiamo letto, io creo la lode che esce dalle labbra. vogliamo che il Signore con questa mano alzata crei la lode. Amen? Non te ne stare in silenzio, non rimanere vittima della tua timidezza, non permettere che questa ti blocchi, ti impedisca di dare gloria a Dio. Questo è qualcosa che riguarda il carattere, ma è secondario. Noi siamo chiamati a lodare Dio indipendentemente dal nostro carattere, se siamo persone più spigliate o più riservate, più taciturne o più estroverse, siamo chiamati a lodare il Signore per quello che Lui ha fatto per noi. Grazie a te solo proponiti di dare gloria al Signore in questo nuovo anno. Il Signore aprirà la tua bocca, metterà le sue parole e tu lo glorificherai. Perché la mano del Signore è alzata. La mano del Signore è alzata per far crescere l'opera sua. Il verso 15 dice tu hai aumentato la nazione, hai aumentato la nazione, ti sei glorificato, hai allargato tutti i confini del paese. Adesso sto leggendo dalla nuova riveduta. Tu hai aumentato, hai fatto crescere. È scritto nel Libro degli Atti al capitolo 11 verso 21 la mano del Signore era con loro, con gli apostoli e con i credenti. E grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. la mano del Signore è alzata per far crescere l'opera sua, per aumentare la nazione, per aumentare il numero dei credenti, per far sì che altri siano aggiunti non a una chiesa o all'altra, ma alla chiesa del Signore, al numero dei salvati, al numero dei redenti, che ci siano tanti nomi scritti nel Libro della vita. e questo non può avvenire in questo nuovo anno, non può avvenire in questi primi giorni del nuovo anno, siamo convinti di sì, vero? Oh, che possiamo vedere la mano del Signore alzata per far crescere l'opera sua, per generare un vero risveglio, anche per questo è alzata la mano del Signore. rivivano i tuoi morti, dice il verso 19, risorgano i miei cadaveri, svegliatevi, esultate, voi che abitate nella polvere, rivivano i tuoi morti. Il Signore vuole manifestare un vero risveglio. Risvegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luci. Tutti i tentativi umani di generare risvegli sono falliti e saranno sempre destinati a fallire. Solo il Signore può manifestare un vero risveglio e quindi noi dobbiamo ricercarlo da Lui. I tentativi umani vengono qui rappresentati come abbiamo letto come una gravidanza illusoria, isterica. Dice siamo stati indoglie quando abbiamo partorito era vento, non abbiamo portato nessuna salvezza al paese, non sono nati degli abitanti del mondo. Vuoto, qualcosa di illusorio, a volte è soltanto qualcosa di umano, soltanto emotività, ma non è quello il vero risveglio. Il vero risveglio è quello che si manifesta quando noi vediamo la mano del Signore alzata. In questi giorni l'abbiamo spesso ricordato e nel libro degli atti è scritto al capitolo 2 verso 17 avverrà negli ultimi tempi una citazione dell'Antico Testamento naturalmente dice Dio che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni e dice che anche sui miei servi sulle mie serventi io spanderò il mio spirito negli ultimi giorni e noi lo diciamo spesso ed è vero che siamo negli ultimi tempi negli ultimi giorni è vero e allora è vero tutto quello che il Signore dice negli ultimi giorni è vero che il Signore spanderà il suo spirito e se noi guardiamo se i nostri occhi sono aperti se non siamo di quelli che non scorgono la mano del Signore alzata noi potremo vedere questa mano che è pronta a manifestare un vero risveglio perché è Dio stesso che manifesterà il suo zelo a favore del suo popolo voi vedrete lo zelo del Signore degli eserciti Dio è zelante Dio vuole manifestare un risveglio vero più di quanto noi lo desideriamo amè ci crediamo Dio lo vuole molto più di noi ma i nostri occhi devono essere aperti per realizzare questo per credere che il Signore lo vuole fare e lo farà e poi la mano del Signore è alzata per dare pace il verso 12 dice Signore o Eterno tu ci darai la pace poiché ogni opera nostra la compi tu per noi o sei tu che la compi per noi tu ci darai la pace Dio promette di parlare di pace al suo popolo e forse ciò di cui il popolo di Dio di cui noi abbiamo bisogno maggiormente è proprio la pace del Signore quella pace quel pari consentimento quell'armonia che caratterizzava l'inizio del cristianesimo del primo secolo i nostri fratelli che con grande semplicità testimoniavano del Signore vivevano questa loro fede cristiana il Signore vuole dare la pace ma a chi il Signore promette di dare la sua pace intanto a chi ripone stabilmente la sua fiducia in Dio il verso 3 dice a colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace la pace perché in te confida colui che è fermo nei suoi sentimenti chi ripone fermamente la sua fiducia nel Signore dice che la parola di Dio che chi dubita è come un'onda del mare e dice Giacomo quel tale non speri di ricevere nulla dal Signore o che il Signore ci conceda di essere fermi nei nostri sentimenti verso il Signore e Lui manterrà la pace nel nostro cuore a chi cerca la vera giustizia la rettitudine la via del giusto è diritta dice il verso 7 tu rendi perfettamente piano il sentiero del giusto il Signore mette pace nel cuore di chi aspetta pazientemente l'adempimento delle sue promesse verso 8 con l'anima mia io ti desidero durante la notte con lo spirito che è dentro di me ti cerca gloria al Signore se aspettiamo pazientemente e ricerchiamo con tutto il cuore l'adempimento delle promesse del Signore lui metterà pace nel nostro cuore toglierà quella agitazione quell'ansia lo spirito santo parlerà al nostro cuore ci ricorderà la parola di Dio ci ricorderà che Dio ha tutto nelle sue mani che lui è ancora seduto sul trono anche in tempi di pandemia in tempi in cui esplodono i contagi in cui sembra che tutto è fuori controllo il Signore è ancora sul trono e non solo è sul trono la sua mano è alzata Dio sta operando aspettiamo con pazienza con fede l'adempimento delle sue promesse a chi lo cerca con tutto il cuore che belli questi versetti dice con l'anima mia ti desidero con lo spirito che è dentro me ti cerco gloria a Dio oh dobbiamo cercare il Signore dobbiamo cercare il Signore con tutto il cuore lui metterà pace nel nostro cuore chi mi cerca mi trova chi trova me trova la vita voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore io mi lascerò trovare da voi dice il Signore e poi la mano del Signore è alzata per mettere pace in chi è disposto a lasciarsi usare dal Signore essere uno strumento nelle mani del Signore Signore eterno tu ci darai la pace poiché ogni opera nostra la compi tu per noi spesso noi perdiamo la pace del Signore perché vogliamo fare noi le cose vogliamo farle di testa nostra pensiamo di fare le giuste scelte e molte volte purtroppo pensiamo erroneamente di essere nella volontà di Dio che sia il Signore a guidarci ma tutte le nostre scelte le nostre decisioni le nostre parole i nostri pensieri le nostre azioni devono essere filtrate dalla parola di Dio che non si contraddice mai che è la nostra guida perfetta ogni cosa deve essere sottoposta allo Spirito Santo e allora il Signore metterà la pace nel nostro cuore quella pace che ci farà andare a combattere quando è il momento di combattere spiritualmente ma che ci farà stare fermi quando è il momento di aspettare aspettare che il Signore compia l'opera sua tu ci darai la pace poiché operano ogni opera nostra sei tu che la compi per noi la parola del Signore ci dice l'apostolo Paolo scrive ai filippesi l'ho messo sia nella versione luzzi che riveduta poiché Dio è quello che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo come il profeta Eliseo pregò per il suo servo perché Dio gli aprisse gli occhi per vedere la realtà della potenza di Dio in azione così Gesù alla destra del Padre intercede per noi affinché i nostri occhi si aprano per vedere la mano dell'Eterno alzata in nostro favore in favore dei nostri figli delle nostre famiglie dell'opera sua tutta di quelli che ci sono intorno di questo povero mondo Eliseo pregò e disse Signore ti prego aprigli gli occhi perché veda e il Signore aprì gli occhi del servo che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo alleluia Signore apri i nostri occhi per vedere che quelli che sono con noi sono più e più forti di quelli che sono contro di noi scrive l'Apostolo Paolo pregava così per i credenti di Efeso egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza egli vi ha chiamati qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo al di sopra di ogni principato autorità potenza signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello futuro il Vangelo di Matteo ci parla di due ciechi che ho dito che Gesù passava cominciarono a gridare figlio di Davide abbi pietà di noi leggiamo che Gesù fermatosi li chiamò e disse che volete che io vi faccia ed essi signore che i nostri occhi si aprano stasera Gesù lo chiede anche a noi cosa volete che vi faccia io credo che noi dobbiamo rispondere come quei ciechi signore vogliamo che i nostri occhi si aprano per vedere che la tua mano è alzata per vederti all'opera per vederti all'opera in nostro favore in mio favore e allora allora fratelli e sorelle non avremo più dubbi potremo dare gloria al signore e allora un vero risveglio si manifesterà in mezzo a noi ci vogliamo alzare in piedi possiamo cantare quel coro che dice apri i miei occhi signore voglio vederti voglio vederti splendere signore nella luce della tua gloria apri i miei occhi signore voglio vederti lo vogliamo dire chiediamolo al signore stasera concludendo questo culto preghiamo che il signore apra i nostri occhi per vederlo all'opera per vedere quella mano alzata e stesa verso di noi posata sopra di noi sulla nostra chiesa sulle nostre famiglie sulla nostra vita sull'opera sua alleluia gloria a gloria a gloria signore voglio vederti voglio vederti apri miei occhi signore apri miei occhi signore voglio vederti voglio vederti 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 splendere signore nella luce della tua gloria mostra il tuo amore su noi mentre cantiamo santo 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 apri miei occhi signore apri miei occhi signore voglio vederti voglio vederti 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 santo mostra il tuo amore su noi mentre cantiamo santo santo e vederti splendere signore nella luce nella tua gloria mostra il tuo amore su noi mentre cantiamo santo 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 Alleluia, Alleluia, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. Alleluia, Spirito Santo.